...entra la base, entra la base e dentro lo c'è. Falco, c'è il gomitato, dentro. Questo è uno, l'altro lo fa per stare a casa. Pulire il naso. E questa è la parte che fanno tutti i due dettagli, perché... ...e non so se, quando uno presta in questa maniera, entra, esattamente uno, poi presta così, in settimana sale e entra l'altro. E' ovvio che non c'è il sogno di arrivare al terzo, se non vedete questo lavoro. Se non c'è sbagliata la tecnica, allora mettiamo il caso che lui e io faccio questo lavoro, no? Allora entra l'altro, entra l'altro, lui mi blocca, no? Così, allora posso pensare di entrare e cominciare a fare delle cose di tutto il genere. Colto il colpo giù, oppure posso entrare così, no? Anche qui. Va bene? Però... Un po' rippure... Uno, poi due. Trovo, si proceda. Vedete la posizione. Bene? Mani... Uno... E' la finito. Uno. Va bene. E dovete essere... Qui davanti. Il fatto che dovete vincitare la mente è in seguità. Uno... Uno, tre... Troppo, troppo... ho fatto una professione... Quattro... e tali. Non cammino la mano, solo il sesso e il sesso e il sesso. Avrete a generare il passo per il tronco. Questa scena è questa stata... Uno. Due. Non deve a me stralme quando la rinata al ruoto è... Conseguità di seguire come lasciarsi fuori. Uno fino a giù... Giù... giù, 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 perché se volete andare forte su dovete prima radicare nella terra, come quando il carro vuole arriva, si ferma, pina vuole i braci in stabilità del dito, e poi comincia a fare il suo lavoro, quindi questo è come il carro vuole che arriva, mette l'anissi, se mi fanno solo così, uno, no, lentamente non sfidate, inspiro, l'ispirazione inversa, questo è un tipo di lavoro, poi giù, stabilità, pressione ancora sui pazzi, adesso risposta, finisce, quindi inspiro, estendo il corpo sull'alto, non mi alzo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10